Ragazzi noi siamo in Demasco, oggi andremo a fare questa sfida con i gran cereali, la nutella, le smarties e i garciofi. Ah non è vero! E eccoci qua ragazzi, attenzione, questa sarà una nuova challenge sempre fatta a casa mia con Valerio. Questa sarà la challenge che hanno già fatto molti youtuber, la vogliamo fare anche noi. E' la challenge in cui devi indovinare cosa ha nella mano, tipo per esempio adesso Valerio deve indovinare quella cosa che gli metto in mano. Che sarà un alimento o un oggetto, non parti umane allora. E appunto vabbè la nutella e quelle cavolate là non c'entrano niente. Strigno e quindi adesso Valerio le farà tutte e cinque lui. Ti dovrò apporgere la mano. Metto la mano, adesso metto in pausa, metto la mano, gli metto il cibo e poi gli stoppo. E chi ne avrà fatte di più, cioè chi ne avrà indovinato di più su cinque vince. Ecco ora attenzione, primo ingrediente per Valerio. Lo metto qua. Molto buono, che a Valerio piace molto. Che c'è dal gusto? Qua sa? Non c'è da niente. Oddio che schifo che è? Oddio. Chi è? Chi è? La parola di Natale. Cacchio, giusto. Una zero per Valerio. Secondo ingrediente. Con il pigiamello? Siamo con il pigiamello. Con il pigiamello. Che schifo che è? Oddio. Lasciacelo. Dai lasciacelo. Oddio. Ma che è? 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 Una spazzolina. Oh dai. Me la appoggi un attimo. Ma che è? Oddio. Ma che è un burrito? Un aspetto. È tipo... È tipo... Un pettine. Sbagliato. Basta. Questa l'ha sbagliata. Che era? Terzo ingrediente. Ho indovinato uno. È sbagliato uno. Oddio. Che è questo? No. Che è? Oddio. Che cavolo è? Oddio. È umido. Oddio. Ma che è? Oh. Che schifo. Ma che è l'uva? Hai detto... Uva. No. Sbagliatissima. E attenzione questa è una sbagliata. Aspettami un tentativo. Eh certo. Hai detto l'uva. È l'uva. Tre ingredienti, due sbagliati e uno chiuso. Questo sarà molto tosto. Ma che fai? Molto schifoso. Molto tosto. Ma stato tutto molto schifoso. Secondo me la scatoletta è in casa. Vale. Tieni forse sul braccio che... Te crolli al braccio. Oh ma che stai a dire? Te crolli al braccio. Tieni forse. Oh è grosso. È arrivata da qua a qua. Ma che cacchio stai a dire? Vale. Oh se mi rimane. Vale dammelo sul destro. Ok. È la cacolata l'alto. Oddio. Ma che cacchio è? Ma porco schifo. Ma no. Oddio fermati. Fermati. È la scatoletta. Ma che cacchio no? Ti giuro no? Dai a te. Questa è la tre trenta di me. Uno ce n'ha spiegato. Ma che cacchio è Marco? Ma fai schifo. Ti avevo detto liquido no? E basta! È liquido. Porco due. Porca la tua. Marrendo. Marrendo. No dai c'è altri trenta di me. Marrendo. Scusa lì. Paggiorno? Tu vuoi restare insieme? Paggiorno in salsiccia con la cacca. No. Basta. Basta. Ok. Ma che è? Hai sbagliato anche questa. Mio Dio. Marmellatella. Ma che? Sono quella a far male gli occhi dai. Ultimo ingrediente attenzione. Tre sbagliati e uno giusto? Vabbè ma se in questo è la metà la mia. Eccolo qua. Ma dove c'è stata la marmellata mortida. C'era la muffa abbiamo visto. Bella. La marmellata peggiore del mondo. Questa sarà. Ma quando mi metti la cosa no? Si. Si vede dalla ricamera? Eh? Si vede dalla ricamera bene? Qui. Oh Marco è pesante? No non tanto. È un po' punto. Marco che po'? È liquido. Oh. Oh un po' è liquido eh. No non po'. Ma che? Dai la metti? Perchè mi ha detto che è stato un po' da un po'. Ma che cosa c'è? Devi far fermare un po' la mano. ma che è? ma quanti tentativi c'ho? formagello ma che è messo a mettere sul dito? una mora no ma che fai? una parmellata no una salsa l'immigliate non è quello non c'è che senso ma almeno ce l'ho messa adesso in realtà ecco lo t'avevo in più questo che è? quindi mi dai mezzo punto no non esiste sì lo dai ma danna quanto pussa ma che è? va sta parrendo senti ma è indovidato ma è naglio è un dogliocchietto ma davvero povolotto valerio non ha finito solo uno adesso è il mio turno ma papà ma morì ok primo ingrediente per Marco lo andremo a vedere un attimo insieme ci viene l'ansia oh niente liquidi eh e niente salse orrende come è? salsa madras salsa madras niente cattivo no no sono formati già i gatti oh niente cibi che gli atti eh no e niente di cosa al muro in scatola ok metti un po' la mano ok è pesantissimo va per te dai la scatola in treghetta no 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 va un po' è tindra spero ma te non me lo facevi è quello un po' difficile sì di con la gatti qua no sta fermo capito si se mi metti una cosa solida cilindrica sulla mano eh come si oh una mano eh ah è la scatoletta quella che ha avuto i gatti quella cilindrica sì ma non vale la rifacciamo questa ma va cagà vale vale assolutamente no non vale ok abbiamo deciso di assegnare a Marco mezzo punto perché aveva comunque toccato con tutte e due le mani con una mano ok adesso andremo a fare questo quindi basta che ne tagliamo una che fa lì oh non puoi stringere eh eh non ti guarda che è questo carino apri non troppo non troppo lei non può con la stiglia è una cosa velozina che faccio indovinarla così che fa così da lasciamo lasciamo la mano no lo vedi se è un altro già è troppo già ho capito che è che è è un panno no sì perché sono una possibilità un panno no perché sono una possibilità perché tu una me la seconda me la dà è una sono le persone a prendi di film dai 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 sbagliata ascia è un panno un panno un calzino ho capito è stoppa è un calzino ma perché non è stoppa è marmellata non panno vabbè vabbè mezzo punto per questo ma che mezzo punto ho capito vai niente che ragazzi terzo ingrediente no adesso è ingrediente per Marco non mi ricca non mi ricca non mi ricca non mi ricca ma che stai guarda ti stai chiamando sotto mettiti bene vabbè qua ti do due tentativi tre no tu sono al quarto e quinto oh perché te li discutono alla terza ti ho dato tre tentativi no alla quarta e quinta ti ho dato tre tentativi non mi ricca 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 dai occhio eh pesante questa teoria dai rigi la tua mano serio oh ma donna devi far finire e capito lasciala Oh, ma lo vedi? Poi vede bene a tutti A tutti Quanti tu stai dicendo? Tre Questo è... Biscotto? No È la cioccolata? No No Che è la cioccolata? La cioccolata? Sì La cosa è grande La posso mangiare? È buona? Sì, è buona Ecco, ho indovinato Siamo uno pari Quindi speriamo che non faccia più pubblico Sennò è un'altra finita per volerla Ok, per l'ultimo tentativo La sto chiedendo fino a uno E la finita mia E la lascio Però non la ritocca troppo Ok Oh, ma lo vedi? L'ultimo tentativo Ma lo vedi? Hai da! Della ventura ... network Non so se non è vero Non so se non è vero Non so se non è vero Come muo? Mi inizia a passare tutta la mano Oh my god Hai la cammella? No Ha anche comunque il tempo Ha anche comunque il tempo Ah no Mentre in due citi Ma non facendo una via Certo che no Perché? No Fa male Certo che fa male No Un alimento Oh non ti basta di niente Non ti basta di niente Oh oh Dai Dai E' un alimento 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 Cioè se lo stavo a mangiare 10 Non urlate Non urlate Due Uno Uno Due E' un alimento E' un alimento E' una vitamina E' una vitamina Lo vedi che sto dentro che è una medicina? E' una vitamina Lo vedi che è bari? E' una medicina Cioè ragazzi siamo uno uno e mezzo pari Ultimo ingrediente Hai due dentativi hai Due? Si due Un alimento Un alimento Non Un alimento E' una Ma hai E' un nu Un alimento Certo E' un alimento Naked ma che cacca? che cacchio vuoi? no altra altro, altro vale, dà ne vuoi altro? vale 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 ah sei contento? no è il mio dito no ma che è? vale ma che è? 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 no ma che è? 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 cosa vuoi stare? ma che vuoi stare? addiole ma che cacca vuoi vedereIMO? ma che cacca vuoi vedere? ma che nicse! ma che non è? ma che hai tanzigliato e faremo vedere? no ma che leggo non cioè la tanzay va bene ok ma c'è modura ma io devo gradire no no ahhh è Nutella? si no sempre la finita e basta e basta ma che cacchio vieni col bellino ma che vado cagata su una mano ma dai cosa l'hai fatto? oh mio dio penitenzella vabbè ecco qui la penitenza per Valerio perde sempre lui ce l'hai perfetto perde sempre lui quella che si deve mangiare dopo vi dirò gli ingredienti sarà un cibo bellissimo cibo molto buono molto molto buono ma perciò è un cibo 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 è un cucchiaio come sempre a mia bocca apri e più apri ah ma non fa quelli ma è peggio è peggio è peggio cibo è stranissima non è male non mi prega niente fa schifo dai ci stava il pomodoro eh? si è fermo questo cucchiaio è un pomodoro eh? no allora ragazzi gli ingredienti erano pomodoro unesima volta zucchero di canna che non fa mai mancare e stavolta toccava alla curcuma ahahah la bella curcuma com'era? ma che è? è pomodoro una specie tipo è tipo ecco qua cosa fa? ma curcuma? no figgio rispetto ad altre volte ma andava bene va bene come vedo? il risultato ok spero che questo video vi sia piaciuto naturalmente è live wow